Buongiorno a Salerno Pensavamo veramente di aver trovato la chiave per mettere in difficoltà la Salernitana Poi è venuto quel gol, in effetti al primo tiro, dobbiamo essere onesti Però ecco, cosa cerchi di dire ai ragazzi? Perché cambia un po' anche il modo di intendere le trasferte quando si prende gol È capitato parecchie volte qui in casa di andare sotto, no? Perché con la Cremonese, perché con il Bologna, perché con il Sassuolo, perché con la Sampdoria È capitato diverse volte di andare sotto È possibile che l'energia del nostro stadio, se posso dire della nostra gente, abbia un impatto forte su una squadra giovane Che vive di entusiasmo, di momenti e quindi magari in casa affronti le difficoltà in un modo diverso Non lo so, perché poi al di là delle partite molto difficili affrontate in trasferta Tu vai sotto nel tuo momento migliore sia a Monza che a Salerno E poi non c'è più quella forza, quella vehemenza che ti porta a cambiare la partita Detto che Senzo là, negli ultimi dieci minuti, fa gol Stiamo parlando di altro, insomma Poi gli episodi chiaramente determinano anche il senso comune Facciamo diventare delle leggi calcistiche, delle cose che sono condizionate da episodi Buongiorno mister Parlando un po' di questo match con la Fiorentina Ecco, la Fiorentina sappiamo tutti come gioca Noi italiani abbiamo avuto due anni Ecco, pur giocando in casa Si può attenderci uno spezia attendista Che possa, diciamo, strategicamente puntare sulle ripartenze, sul contropiede Proprio in funzione di quello che è il modo di giocare la Fiorentina Ci saranno dei momenti della partita dove sicuramente questo succederà Perché la Fiorentina fa del possesso palla E del dominio del campo fa la sua caratteristica principale Quindi che tu lo voglia o che tu non lo voglia Di sicuro in alcuni momenti della partita questa cosa succede Poi noi è ovvio che dobbiamo cercare di mettere in campo le nostre armi nel modo giusto E dare il meno possibile alla Fiorentina la partita che vuol fare Sì, buongiorno mister Le faccio una domanda su un singolo Che è anche un simbolo di questo spezia Ovvero Jasi Come lo sta vedendo? Perché in questo inizio stagione forse Ha dato un pochino meno rispetto a quello che ci si aspettava Ha giocato in diversi ruoli Adesso sta giocando in avanti Se lei è soddisfatto di quanto sta facendo O se anche lui, come è successo ad altri compagni Potrebbe avere un turno di riposo O partire dalla panchina? Grazie Allora, Jasi in verità non è che ha giocato in diversi ruoli Ha giocato in due ruoli Ha giocato da quinto e da seconda punta Quando abbiamo deciso di giocare a tre Nella via di mezzo fra questi due ruoli In definitiva le sue caratteristiche, la sua duttilità Fanno in modo che questa cosa sia abbastanza normale e fisiologica L'inizio del campionato, e io avevo detto che a me stesso Che probabilmente quel ruolo non lo faceva esprimere al 100% All'inizio del campionato non stava bene Non stava bene come nell'ultimo mese Lui ha cominciato veramente a stare bene dal punto di vista fisico Più o meno dopo la Sampdoria, cavallo della sosta del campionato Però ha sempre avuto continuità dentro il campo Perché io l'ho schierato tutte le volte Tutte le partite, credo E le dico che a me piace sempre di più Lasci stare che si fa una valutazione Non ha ancora fatto gol E possiamo fare tutta una serie di considerazioni Però ad esempio domenica scorsa Salerno a me è piaciuto molto Non andava tolto Non andava tolto Poi l'allenatore fa delle valutazioni rispetto al momento della partita E prova a mettere dentro dei calciatori che abbiano caratteristiche Magari di giocata singola per risolverti la partita Ma non andava tolto Era molto in partita Ha fatto un primo tempo di, secondo me, di grande qualità E non aveva abbassato né intensità né qualità del gioco Secondo me Quindi in generale Al di là del fatto che non ci ha ancora portato gol Però io sono contento di come si allena E di come sta facendo durante la settimana E di sicuro lui fa parte della partita domani Buon pomeriggio mister Una mia domanda sul modo di giocare più che altro Con cui si approcerà domani la squadra La Fiorentina la conosciamo Gioca appunto come diceva prima anche il collega Un calcio molto offensivo E ha degli interpreti molto importanti Soprattutto nei ruoli che riguardano le ali Con caratteristiche molto offensive Sono giocatori molto bravi nell'uno contro uno In questo caso da parte sua È meglio giocare magari con una linea Che possiamo definire a quattro Per cercare di arginare questo strapotere offensivo Della Fiorentina O magari cercare di giocare a tre Rischiando a volte anche l'uno contro uno Negli interpreti Magari quando succede che la coperta Si scopre un pochino Le dico che poi È già una discussione che abbiamo fatto Con i colleghi già in un paio di occasioni Che al di là del sistema numerico La risposta è proprio la medesima Che ho dato prima al suo collega Vedrà che durante la partita domani Lei si troverà sia questo sia quello In base al momento della partita Buongiorno mister Io volevo chiedere Una domanda su Agudelo Nel senso che Nel 3-5-2 Lei l'ha sempre utilizzato più o meno Con un compito da mezzala Con alcuni compiti in fase offensiva Volevo chiedere se Per aiutare la squadra A creare più gioco offensivo Arrivare più volte al tiro Se è nelle sue idee Spostarlo qualche centimetro più avanti E dargli compiti prettamente Solo offensivi Diciamo sulla tre quarti È difficile rispondere alla sua domanda Perché è difficile cogliere il presupposto Che lei ha messo Perché Se Agudelo gioca da mezzala Diciamo solo per capirci Nel 3-5-2 Ma è abbastanza chiaro Che nelle partite Si viene a trovare quasi esclusivamente In quella zona di tre quarti In quella zona di inserimento Che fa in modo che succeda Quello che dice lei Quindi È difficile rispondere Dicendo Cosa devo dire Che lo faccio correre di più Che non lo faccio E lui è già là È già là Poi lo fa Partendo idealmente Dal ruolo di mezzala Ha dei compiti Che di partita in partita Possono cambiare Perché In alcune partite Si trova Ad allargarsi Perché lo spazio È più facile Trovarlo Verso l'esterno E in altre partite Invece Io gli chiedo Di stare Sotto le punte Nella zona un po' più centrale Perché È in quella zona Che penso Che lui Possa avere più spazio E possa fare più male Da questo punto di vista È un po' La risposta Che ho dato Anche rispetto a Giasi A Agudelo Secondo me A Salerno Ha fatto molto bene Manca il gol Manca il gol Manca il fatto Che lui possa concretizzare Il grande lavoro Che sta facendo E secondo me È l'evoluzione Che sta avendo Anche come calciatore Poi Queste cose Devono arrivare Devono arrivare Perché Uno lavora Insiste Lavora Insiste Lavora Insiste Poi se non hai soddisfazione Il ragazzo per primo Comincia a perdere Un po' di fiducia Rispetto a quello Che sta facendo E magari cerca Delle strade alternative E quando succede questo È più facile Che ci si perda Invece che andare A consolidare Le proprie sicurezze Invece io Torno un attimo Al centro campo E ti faccio una domanda Su Borabia Eqdal Ormai Eqdal Diciamo che Possiamo considerarlo Recuperato Diciamo quasi Al cento per cento Magari non Non lo sarà ancora Per tutta la partita Però L'accoppiata Ha funzionato Molto bene Nel primo tempo Perché sono due Giocatori tecnici Che ti danno Anche l'opportunità Chiaramente Di trovare Le giocate Anche per i compagni Come valuti Diciamo La coppia Assieme È sempre un po' Diciamo particolare Per alcuni Giocare con due Che sono ritenuti Magari non troppo veloci Ecco Come valuti Invece tu La possibilità Per loro Di giocare assieme Mi piace L'idea Che loro Possano giocare assieme Perché Tutti e due Non dispongono Della grandissima Intensità Però tutti e due Hanno grande Comprensione Del gioco E dei momenti Della partita Aiutano La squadra Ad avere Maggiormente Equilibrio Si vede Nei momenti In cui Li tolgo Dal campo Come cambiano Le cose In maniera Abbastanza repentina Chiaro Che magari Facciamo un po' Più fatica A coprire Tanto campo E questa cosa Io la devo Compensare Con altri Interpreti In altri ruoli Per cercare Che la squadra Al di là Della coppia Di centrocampo Possa avere Gli equilibri Sempre migliori Mister Le chiedo questo Obiettivamente La Fiorentina Sul piano tecnico Sul piano Dell'organico È superiore Allo Spezia Occorrerà domani Un po' La partita Perfetta E se lo Spezia È nelle condizioni Fisiche Per poterla fare Mi riferisco Ad alcuni giocatori Che obiettivamente Sono rientrati Da poco Insomma A pieno regime Quindi Verde Rezza E Maltini Insomma La verità In tutta onestà È che io La risposta Non ce l'ho E La risposta Ce la darà il campo Perché di sicuro È quello che proveremo A fare Quindi di sicuro Noi proviamo Ad andare per la nostra strada E a fare la partita Perfetta E sapendo Che comunque In virtù di tutta Una serie di considerazioni Che possiamo fare Che lei sa meglio di me La partita di domani Non è proprio Una partita normale E quindi Noi siamo consapevoli Di questa cosa E cercheremo Di fare la partita All'altezza Di questi Presupposti Poi le risposte Ce le darà il campo Ma i giocatori Come stanno Appena citati Non lo sai mai Veramente Perché poi I ragazzi Spesso Tu li vedi tutti i giorni Li vedi tutti i giorni Però non sono tutti i giorni uguali C'è un giorno in cui Ti sembra di vedere Delle cose fantastiche Ma il giorno successivo Sei di nuovo deluso Perché si fa un passo indietro Parli Con i ragazzi I ragazzi Sono tutti vogliosi Di dare il proprio contributo E ti dicono Molto spesso Sovrastimano La loro situazione E ti dicono Che stanno benissimo Poi I rilievi Sono quelli veri Del campo E di quello Che tu vedi Poi durante le partite Quando comunque Ti prendi i tuoi rischi E qualche volta Le cose vanno bene E qualche volta Non vanno bene Quindi È difficile Dirle Io ho qualche sensazione Ce l'ho Ce l'ho Ma delle risposte Certe no Mister Una domanda Un pochino più Lungimirante Come stanno Bastoni E Covalenco Se c'è possibilità Di rivederli Prima della sosta O se è difficile Covalenco Di sicuro no Di sicuro no E se ne riparlerà A gennaio Bastoni Sta provando A Ad affrettare I tempi Del rientro Io mi auguro Che lui possa essere A disposizione Già per Milano Ma potrebbe anche Non essere così Insomma I tempi sono Talmente stretti Che Potrebbe essere Che lui A disposizione Per Milano E potrebbe essere Che anche lui Come Covalenco Lo rivediamo Solo il 4 gennaio Considerando La Fiorentina Anche in difficoltà In alcuni tratti A Lecce Una partita Abbiamo visto Ovviamente Il Lecce Punta molto Sulle ripartenze Di elementi Molto rapidi Quindi Magari non sarà La stessa partita Quindi Noi abbiamo Giocatori Magari da caratteristiche Un po' diverse Quindi non è detto Però ecco Tu hai l'opportunità Di mettere O due terzini Mi riferisco A Olme E Rezza Che possano fare Sia i terzini Che i quinti E quinti Magari anche Durante la partita Secondo me Tu hai la possibilità Di cambiare Magari anche La forza offensiva Della squadra A seconda di come Ti vuoi mettere Ecco Magari parti con Olme più alto Poi lo porti terzino Metti dentro verde Ecco Un discorso del genere Quindi È possibile Che tu parta Magari un po' più prudente Per poi Vedere come va la partita Ci stanno Queste Sono delle considerazioni Estremamente pratiche Che ci stanno E che Di sicuro Succederanno Perché Ormai abbiamo imparato tutti Che le partite di Serie A Hanno diverse partite All'interno E che bisogna essere bravi A leggere A cercare Di leggere i momenti E ad adeguarsi Nella maniera Migliore possibile Al momento Che si sta per verificare Anche condizionare La partita Cercando di orientarla Dalla propria parte Non necessariamente Si deve pensare Che prima Voglio essere prudente E poi Si può anche pensare Il contrario Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti